Con una grande partecipazione di fedeli, Gela rinnova oggi la sollevazione in onore di Maria Santissima D'Alemanna, patrona della città, attraverso i tradizionali riti legati alla cultura medievale e agli eventi della storia e delle leggende della città. Particolarmente sentita e attesa dalla comunità giolese, la festività religiosa è stata improntata da Monsignore Grazio Labiso su delle linee direttive ben precise, quella dell'essenzialità, della sobrietà e della solidarietà attraverso una serie di giornate tematiche che hanno segnato una intensa settimana di appuntamenti dedicati alla bellezza, alle abilità diverse, alle comunità, alla vita e alla famiglia, allo spirito, ai giovani, alla speranza e alla lode. L'icona, in stile bizantino della Madonna, fa rivivere la terra nuova voluta da Federico II che chiamò i religiosi teotonici di Santa Maria D'Alemanna, i cui frati prestavano culto alla Divina Signora. L'immagine sacra è la memoria storica di alcuni avvenimenti rilevanti della città quando, durante le incursioni saracene tra i secoli XIV e XV, gli alemanni la abbandonarono sotterrandola in una buca nei pressi dell'altare dell'antica omonima chiesetta e quando, intorno al 1450, essa fu rinvenuta miracolosamente da un contadino e Maria, proclamata patrona della città. I gelesi attribuiscono alla Vergine dell'Alemanna lo scampato pericolo del terremoto del 1693 e l'inconunità durante il violento bombardamento navale del 10 luglio 1943. Da una settimana la città di Gela è illuminata. Oggi, 8 settembre, la Chiesa Madre è meta di numerosi fedeli che sostano in preghiera davanti all'icona della patrona. Il Vescovo della Diocese di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana, ha preseduto questa mattina in Chiesa Madre il solenne pontificale, concelebrato da tutti i sacerdoti gelesi o che operano a Gela. E al termine hanno avuto luogo in Piazza Umberto I i giochi birotecnici in onore della patrona. Nel tardo pomeriggio la solenne processione della Sacra Econa di Maria Santissima d'Alemanna per le vie cittadine accompagnata dalle preghiere dei devoti e dal suono delle bande musicali con momenti tradizionali toccanti, quali la spogliazione dei bambini. In tarda serata, mentre il corteo religioso fa il suo rientro in Chiesa Madre, la tradizionale e suggestiva fiaccolata in Piazza Umberto per tributare l'ennesimo rivalente saluto alla Sacra Effigie. Al termine della processione, l'altesissimo spettacolo pirotecnico che conclude i vesteggiamenti in onore della patrona di Gela.